Siamo qui come sempre tutte le mattine in diretta alle 7 ma anche in replica nel corso della giornata per leggere i titoli delle notizie che abbiamo selezionato per voi dal Carlino e il Corriere Adriatico Allora andiamo a vedere il salto di oggi, è San Pio X, è stato un papa, il sole è sorto alle 6.18 e tramonterà alle 20.05 è stato anche patriarca di Venezia Allora andiamo a vedere adesso il tempo Dal sito della protezione civile delle Marche per la giornata di oggi vedete cielo sereno poco nuvoloso soltanto qualche possibilità di pioggia nel corso del pomeriggio relativamente ai Sibillini quindi siamo nella parte meridionale della nostra regione per il resto non c'è nulla da segnalare se non le temperature in lieve aumento domani sabato 21 cielo sereno poco nuvoloso ancora aumento delle temperature domenica 22 un'altra bella giornata di sole agostano con temperature ancora in aumento la prima parte della prossima settimana sarà caratterizzata un po' da tempo instabile ma lo vedremo nelle prossime ore intanto andiamo a collegarci con il bagnino di turno questa settimana con noi che è Giovanni Dallago che però si trova in acqua al mare e si trova di fronte alla sua spiaggia che è Animalido e che insomma vedo collegato con noi dal pattino buongiorno Giovanni buongiorno a tutti ah ma non sei nemmeno a due passi dalla riva vedo che ci sono gli... ho intravisto gli scogli e le scogliere se non sbaglio eccole lì guarda qua sì sono diciamo intorno ai 200 metri che stavo andando a controllare le boe che dopo un'amarezzata di solito si muovono sempre e vanno risistemate ecco le boe che cosa indicano in questo caso? abbiamo perso l'immagine ma continuiamo a sentire il rumore dell'acqua Giovanni ci sei? sì io vi sento ecco noi ti sentiamo sentiamo anche il rumore dell'acqua che è sempre bello e affascinante ma non ti vediamo più ah forse è andata via proprio l'immagine è andata via l'immagine sì comunque sì siamo qua in mezzo al mare è anche questa parte del lavoro del bagnino controllare le boe per la sicurezza dei bagnanti ok le boe sono un segnale molto importante e indicano il limite della balneazione oltre il quale poi non c'è nemmeno il controllo la sicurezza o meglio la sorveglianza immagino poi è chiaro che se uno vede che sta in difficoltà prende parte comunque vediamo un attimo di Riccardo di ricollegareci perché comunque di soccorsi in mare chiaramente si parla anche oggi perché e qui vado sulla prima pagina del resto del carriero di oggi vedete il coraggio tra le onde dopo il drammatico soccorso ad Andreani il bagnino di 24 anni salva anche un'altra vita è quella di un prete un sacerdote di 70 anni poi vedremo anche di chi si tratta e quindi si parla oggi di queste mareggiate degli effetti di queste mareggiate spesso le persone non si rendono conto vanno comunque in acqua questo mare che vedete qua dietro nella fotografia che sembra innocuo sembra tranquillo ma in realtà nasconde delle insidie vedo che Giovanni è tornato di nuovo in onda mi interessava questa cosa intanto della boa abbiamo capito che oltre la quale è bene che i bagnanti anche i più esperti insomma non vadano ma c'è anche la questione c'è anche la questione delle mareggiate c'è anche la questione del mare che sembra come dicevo a volte tranquillo come quello di ieri ma che in realtà nasconde delle insidie è così quali sono i pericoli diciamolo anche ai nostri telespettatori magari ai villeggianti che non vivono il mare tutto l'anno diciamo che in particolari condizioni marine soprattutto si creano delle correnti in cui soprattutto in certi posti dove sprovvisti da scogliere o comunque dove le scogliere non sono più efficienti si creano delle correnti che portano diciamo verso fuori le persone che provano ad andare a fare il bagno e questo crea panico e poi nella età arte del nuoto adesso oramai tutti sappiamo nuotare però non tutti sappiamo nuotare in mare è una cosa differente rispetto ad andare in piscina anche frequentemente ecco quindi l'invito in queste particolari condizioni meteomarine è importante soprattutto ecco l'invito è quello di controllare bene insomma se per esempio la bandiera è rossa o bianca quindi se è rossa evidentemente magari potrebbe essere il caso di non avventurarsi troppo in là e stare magari a riva sì sicuramente è il fatto di stare più vicini alle postazioni di bagnini o comunque di non andare dove non si tocca o troppo lontano dalla costa è sicuramente un consiglio importante comunque la giornata di oggi per voi è tranquilla insomma vedo che il mare è abbastanza non è come quello di ieri insomma no la giornata di oggi sembra molto tranquilla anche se per esempio adesso c'è ancora un po' di vento di terra che spinge verso il largo poi di solito questo vento cambia durante la giornata diciamo dall'arrivo delle persone e magari lì il problema è più per chi sta su un materassino col vento che spinge verso il largo giusto? sì assolutamente va bene grazie allora buona giornata Giovanni ci sentiamo domani per il collegamento e i saluti se vuoi farci anche tu la fotografia con tutti i tuoi collaboratori domani la facciamo vedere grazie e buona giornata buon lavoro a te benissimo allora tornando sempre sul giornale il carriero di Pesaro c'è poi la notizia che riguarda soprattutto i pesaresi che magari hanno i motorini, i scooter nuovi, biciclette nuove magari hanno speso, investito anche dei soldi ecco sappiate che in queste settimane c'è un problema hanno avvistato questo furgone bianco che pare sia utilizzato per rastrellare scooter, biciclette che poi spariscono in 448 e prendono strade non conosciute questo ricordo questa notizia circolò anche qualche anno fa a Fano e c'era sempre questo famoso furgone bianco ecco di questo si parla perché si moltiplicano come scrive il giornale le denunce e spunta appunto questo mistero del furgone bianco e compare nei luoghi dei furti insomma si moltiplicano le denunce poi un'insegnante di canoa che è rimasta ferita dopo un tuffo di 10 metri a fossombrone nelle marmitte dei giganti e poi vedremo una donna travolta dalla mucca mentre scatta la foto ricordo si è avvicinata troppo all'animale ed è stata ricoverata al torrette poi come la fiera di San Nicola di Pesaro anche quella di Fano cioè la fiera di San Bartolomeo che ci sarà tra pochi giorni vedrà il Green Pass obbligatore quindi i fanesi potranno andare alla fiera di San Bartolomeo ma soltanto con il Green Pass mentre sotto qui di taglio basso VL, la caccia al pivò è un rompicapo la società sta trattando profili di alto livello ma i no incassati finora fanno salire l'ansia e poi il calcio con la Vis Pesaro Vis esame tosto con il Modena domani al Benelli la sfida di Coppa Italia affrontiamo, dice Bianchini una squadra fatta per vincere andiamo a vedere invece adesso il Corriere Adriatico allora a centropagina la notizia caccia di pesci ma per salvarli fiumi in secca, fauna ittica a rischio dunque ci sono squadre speciali che vanno a salvare gli animali, i pesci che diversamente morirebbero perché i fiumi a causa della siccità si stanno prosciugando poi Pesaro blindata per Mattarella in vigore una serie di ordinanze per vietare il transito e la sosta in centro storico rigido protocollo mentre il sindaco Ricci e l'assessore Vimini dicono la sua presenza un orgoglio per la città è la prima volta di un capo di Stato al Rossini Opera Festival dunque a frontone invece la turista passa troppo vicino la mucca dunque la carica e poi Fiera di San Bartolomeo con il camper vaccinale la fiera che ci sarà a Fano dal 24 al 26 agosto sul lungomare di Sassonia 5 accessi, controlli della polizia per il Green Pass allora abbiamo visto già questa notizia poco fa ve la ripropongo a pagina 3 del resto del carino di oggi ho fatto di tutto per Andreani non è bastato e ieri il bagnino eroe ha salvato un prete dopo aver riportato arriva il corpo del consulente ieri Luca Pasquinelli ha soccorso il parroco della chiesa di Montellabate non è stato un gesto eccezionale ma solo il mio lavoro ha detto il 24enne Angelo della Spiaggia e il sacerdote lo ringrazia e di questo salvataggio racconta il bagnino riferendosi al sacerdote appunto in acqua non aveva bevuto era bianco e spaventato abbiamo allertato il 118 poi però si è ripreso questa invece è la pagina 19 del resto del carino ancora la cronaca con questa notizia che arriva dall'entroterra calci dalla mucca dopo la foto è grave è caduto sul Catria soccorso a una donna di 44 anni che si trovava sotto la croce del monte con il marito l'animale si è imbizzarrito e ha colpito mia moglie dice il marito con il capo e poi con gli zoccoli necessario l'intervento dell'elisoccorso ricoverata all'ospedale di Torrette di Ancone poi sotto invece da Fossombrone angoscia alle marmitte dei giganti dove è stata soccorsa una nota maestra di canottaggio Natalia Luzzi di 44 anni che è molto nota appunto dalle parti di Fossombrone una nota maestra di canottaggio lei a un certo punto era andata a trascorrere come racconta Elisabetta Rossi questa mattina per trascorrere un pomeriggio di svago in mezzo alla natura delle marmitte dei giganti con alcune amiche e per colpa di un tuffo azzardato questa avventura si è trasformata in un dramma lo racconta anche il corriere adriatico Roberto Giungi tuffo da 10 metri alle marmitte donna soccorsa con l'elicottero la 44 anni del posto si è sentita male complicato il recupero che è avvenuto con un verricello che è stato calato giù dall'elicottero dove appunto c'era anche un medico che ha prestato come vedete dalla fotografia dei vigili del fuoco i primi soccorsi poi come scrive Giungi questa mattina sul giornale sono arrivate notizie rassicuranti sullo stato di salute di questa donna che è stata sottoposta un po' tutti ovviamente gli accertamenti del caso in ospedale la paura però per tutti è stata tanta perché potete immaginare pare così come racconta anche il giornale insomma come si è fatto questo tuffo da 10 metri se non è perfetto insomma ha battuto la schiena ha cominciato a sentire dei formicoli alle gambe eccetera quindi la situazione era abbastanza preoccupante poi però come ci informa il Corriere pare che insomma tutto sia si stia risolvendo per il meglio intanto restando a Fossombrone ma parlando di politica di amministrativa in particolare sapete che a Fossombrone si voterà per eleggere il nuovo sindaco quello che prenderà il posto di Gabriele Bonci ebbene anche questa mattina si parla di uno dei candidati che è Massimo Berloni che ha presentato il suo simbolo come candidato a sindaco il titolo da via Roma parte la rinascita torniamo a Pesero pagina 2 il resto del Carlino pubblica questa notizia che riguarda i furti un furto dietro l'altro spunta anche il mistero di questo furgone bianco raffica di colpi in città a Pesero iniziati almeno da fine luglio spariti motorini in più zone oltre a un gran numero di biciclette nei luoghi dei ride spunta spesso lo stesso mezzo su cui probabilmente viene caricata l'aria furtiva e c'è anche un video lo racconta Nicola Smasetti sul Carlino di questa mattina ecco a detta di diversi cittadini sembra che a compiere i colpi siano uomini a bordo di questo furgone bianco in uno dei furti in zona mare per esempio questa volta di una moto in piena notte il fantasma bianco è stato ripreso da alcune telecamere negli stessi minuti in cui è sparito il mezzo i ladri scendono dal furgone rompono il blocco a sterzo dello scooter oppure il lucchetto della bicicletta e caricano il malloppo sul furgone qui ci sono anche le fotografie questa è un'immagine un fermo immagine scattato dalla telecamera rappresenta all'esterno di una abitazione allora Pesaro si appresta ad accogliere il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per il Rossini Opera Festival dunque domenica per i pesaresi sarà una giornata con alcuni divieti soprattutto per quanto riguarda la viabilità il Corriere Adriatico a pagina 8 questa mattina gli elenca questi divieti per esempio come quello di vendere o somministrare bevande in vetro e Olattina attorno a Piazza del Popolo dalle 4 del pomeriggio fino a mezzanotte la stessa piazza ovviamente del popolo sarà off limits al transito e alla sosta a partire dalle 8 del mattino sarà vietato parcheggiare in Piazzale Matteotti dalle 4 del pomeriggio fino alle 10 e mezzo di sera transito vietato praticamente in buona parte del perimetro della ZTL dalle 16 alle 24 e sempre dalle 12 invece alle 24 sosta vietata all'interno della ZTL ora non ci saranno momenti di contatto con il pubblico per evitare assembramenti dunque praticamente il Presidente arriverà lì starà sotto la Prefettura poi ecco assisterà a quello che ha la ROF e poi se ne tornerà a Roma ma senza non c'è nulla in programma insomma è tutto molto molto semplice mentre dalla pagina di farlo del resto del carlino alla fiera con il pass e vaccino preta portè il tradizionale appuntamento dedicato a San Bartolomeo nel segno del Covid si entra con l'incertificato verde e chi potrà ricevere e chi vorrà potrà ricevere anche il siero sopra i 60 anni verrà somministrato il monodose Janssen mentre a tutti gli altri Pfizer o Moderna verranno fatti dei controlli a campione lo ricordiamo dalla Polizia Locale senza ispezione ai varchi bandiera rossa la corrente gioca brutti scherzi ad un ragazzino e a un cinquantenne questo successo a Torretti di Fano quindi non solo a Pesaro ma anche a Fano il giovane alla deriva sul materassino non riusciva a rientrare vedete quello che dicevo prima l'altro a Naspava invece oltre gli scogli mentre da Fano ancora il Corriere Adriatico San Bartolomeo Bancarelle e vaccini 250 ambulanti e i camper con le dosi la fiera dal 24 al 26 agosto sul lungomare Sassonia 5 accessi controlli della Polizia all'interno sul certificato verde insomma tutto questo pandemonio per andare semplicemente a fare una passeggiata e cercare di comprare qualcosa da portare a casa ma con quale spirito con questo spirito che certamente non invoglia assolutamente infatti questo Green Pass sta praticamente danneggiando moltissimo l'economia locale lo scrive anche il giornale questa mattina lucevano le stelle molto meno senza Green Pass come dire gli ingressi sono stati dimezzati dopo l'introduzione dell'obbligatorietà di questo Green Pass che lo ricordiamo è soltanto un'operazione politica e non serve assolutamente a nulla cioè non serve a mantenere e a come dire a limitare i contagi anzi peggiora la situazione se vogliamo perché perché da una falsa percezione di questo avere il Green Pass da una falsa percezione di sicurezza quindi uno sapendo che c'è il Green Pass si sente un po' da tutto in realtà non è immune da niente quindi ecco devono stare attenti quelli che hanno il Green Pass forse anche più di quegli altri quindi attenzione a queste cose perché poi si rischia di fare di fare peggio però questo è il Green Pass c'è e quindi viene viene reso obbligatorio ma questo ripeto ma lo hanno detto anche loro gli esperti serve soltanto per invitare la gente a vaccinarsi e questo è l'obiettivo però se l'avessero detto in maniera molto chiara e trasparente uno se ne sarebbe fatta una ragione dire che ci si rende immuni o comunque che cambia le cose è un po' scorretto buche e rattoppi l'urgenza non va in ferie ecco le priorità del piano asfalti comunale ovviamente il comune è quello di Fano perché siamo sulla pagina di Fano del Corriere in molti quartieri si segnalano situazioni allarmanti in alcune strade non si interviene da troppo tempo e qui ci sono alcune strade che il giornale pubblica via Togliatti via Tasso via San Lazzaro piazza Unità d'Italia ma immagino che voi a casa già avrete un elenco molto più lungo di quello che ha pubblicato il giornale questa mattina rischio morire nei fiumi a secco la task force per salvare i pesci i volontari Fipsas hanno già messo al sicuro oltre un quintale di esemplari abbiamo effettuato raccontano interventi uno a Pianello di Cagli gli altri a Cantiano e ad Apecchio recuperando circa un quintale di pesce ancora vivo così come specificato appunto da questi volontari della Federazione Nazionale della Pesca e delle attività subacque che in questi giorni stanno lavorando tantissimo appunto per salvare tutta la fauna ittica che è in questo momento allo stremo e che sta boccheggiando letteralmente in una situazione che rischia di essere senza ritorno e poi ancora dai giornali da Senigallia il Corriere Adriatico vetri sfondati e lattine a scrocco negozio in balia dei baby vandali i titolari di un self service chiedono più controlli a Prefettura e Questura altrimenti dicono loro noi chiudiamo qui vedete la telecamera loro lo sanno questi baby questi baby vandali che sono ripresi dalle telecamere almeno spero che lo sappiano ma comunque questo è un fermo immagine del momento in cui appunto questa persona rompe il vetro per prendere che cosa poi di fatto prendere qualche bibita prendere qualche lattina niente di più niente di meno intanto la segnalazione di Liberani di Fratelli d'Italia sempre da Senigallia riguarda le panchine della stazione che sono usate come letti l'ultima pagina sempre da Senigallia però questa volta dal resto del Carlino ecco la fotografia di un lupo ripreso in un video girato al Cesano un lupo tra i nudisti alla foce del Cesano l'animale immortalato in un video centinaia di condivisioni in pochi minuti avvistamenti sempre più frequenti e una raffica di segnalazioni stiamo parlando di questa zona che i senigallesi conoscono bene ma a dire il vero la conoscono da tutta Italia perché è segnalata nei siti appunto dedicati a chi vuol prenderla la tintarella integrale la zona è diventata un piccolo paradiso per chi ama dedicarsi appunto alla tintarella integrale mentre c'è un aggiornamento sul maxincendio di Senigallia si allontana l'ipotesi del dolo ragazzo al vivere scusate il rogo al vivere verde nessun punto di innesco come invece avevamo letto ieri pareva addirittura che ce ne fossero stati 3-4 in realtà non ci sono questi punti di innesco quindi probabilmente sarà dovuto per il caldo non so perché parcheggi selvaggi scattano multe in serie sanzioni della polizia locale delle auto in doppia fila sul lungomare un autobus non è riuscito a fare manovra e dunque sono partite a Senigallia da parte della polizia locale una raffica di multe sempre sul lungomare cesano l'informazione con la rassegna stampa finisce qui noi ci vediamo stasera alle 20 e 30 con Occhio alla notizia che è il nostro telegiornale grazie per averci seguito buona giornata a tutti grazie a tutti grazie a tutti